Io sono il sergente ed è così che vi rivolgerete a me La nostra missione è molto semplice vincere il contest di X-Higles Bene, ci sono volontari? Bene, è un inizio Muoveremo le truffe lungo questo asse Poi faremo uno sparco qui Sì, e ci vogliamo Signore, ma... È sicuro di usare la mappa giusta? Hm, opterei per il Kanciakta Tu sei stato scelto Tu sei la persona adatta Ti affido le mie flotte Comandante, ma dici sul serio? Mai stato più serio Avremo bisogno di aiuto Per questo faremo delle alleanze Lego, Godzilla Le armate delizio Qualcuno lancia una granata! Non questa! I nemici saranno morti Ma noi prevalicheremo Perché questo È Il nostro momento Il nostro momento Grazie a tutti.